Ciao, è uscita la recensione nostra di Multimedia.tt di The Order 1886 e io e Matteo volevamo dire la nostra sul gioco. Io dico la mia dopo. Eh certo, la nostra. Io gli ho dato 7.8 perché per me è un gioco che ovviamente graficamente e tecnicamente ridefinisce tanti canoni attuali dei giochi su console. Non soltanto per il lato puramente tecnico ma anche perché comunque tutto il lato artistico, la cura per il dettaglio, compongono una scena che è fantastica proprio da film, identica a un film, sembra di vivere un pezzo di film. Le bande nere danno un po' fastidio, dopo un po' ci si dimentica di queste bande. Ovviamente se avete un monitor piccolino, no. Il gameplay all'apessino mi ha lasciato un po' con la mano in bocca ma non sono così negativo. Nel senso che la base non è male, è uno shooter in terza persona. Mi piace la fisicità degli scontri e la diversificazione delle armi. Purtroppo l'intelligenza artificiale nemici è molto molto scolastica. Sono molto standard quando vi attaccano. Non c'è quel senso di coinvolgimento tipico dei grandi titoli come Gears of War e compagnia. E quindi è tanto da migliorare da questo punto di vista. Però c'è un grandissimo potenziale. Sì Antonio, tu hai detto bene, tutto bene. Però secondo me avresti dovuto forse rimarcare la mancanza più forte di The Order nella tua recensione. Hai detto tutto bene, ovvero stiamo parlando di uno sparatutto in terza persona con una forte componente narrativa, con un lato tecnico esagerato. Però se si chiama sparatutto bisognerebbe sparare molto di più e soprattutto lo sparare dovrebbe essere molto più gratificante. Secondo me The Order pecca molto in questo. Che quando si tratta di imbracciare il fucile ci si diverte poco. Si fa il compitino, si spara i nemici che sono un po' stupidotti, però finisce lì. Sì, graficamente è bellissimo, una storia interessante, il complottone, quello che ti pare. Vogliamo fare il cinema, vogliamo fare Kubrick, ma qui dobbiamo fare videogiochi. Secondo me avrebbero dovuto scegliere una via diversa, ovvero essere molto molto più... Il focus sarebbe stato molto più forte sulle sparatorie e non sulla storia. Perché se io voglio giocare a uno sparatutto in terza persona voglio sparare e voglio sparare e divertirmi tanto. Ho capito, però innanzitutto voglio capire chi è che ha dato questo appellativo di sparatutto. Perché tanti hanno messo contro Gears of War a paragone con Gears of War, ma in realtà i sviluppatori hanno sempre detto che era un gioco con una forte componente narrativa di storia e che aveva delle fasi di shooter. E quindi ovviamente non sono fatte bene, hanno tantissimi basi, soprattutto per quanto riguarda tutto quello che ha a che fare con i nemici. Sì, sicuramente il bilanciamento è troppo a sfavore delle parti di gameplay, però comunque il gioco è una bellissima esperienza da vedere, anche da apprezzare, sulla quale ragionarci da questo punto di vista. Io proprio non concepisco le recensioni che gli hanno dato 2, 3, 4, 5. Cioè, assolutamente si può essere d'accordo magari a dare 7, 6 e mezzo, secondo i gusti della scala di valori di un sito. Però chi ha dato 2, 3, 4 e 5, secondo me è in mala fede, non ci ha capito nulla, si aspettava altro dal gioco e quindi l'ha penalizzato secondo i propri gusti, non secondo un valore aggettivo. È un titolo che ha un grande potenziale, che è da 10 di grafica e da 6, 7 del gameplay. Si fa una media ponderata a favore ovviamente del gameplay, quindi si va sul 7, 7 e mezzo, 8. Dopodiché si spera che col secondo capitolo questi difetti che sono chiari e anche i sviluppatori non hanno capito possano essere risolti e fare un capolavoro come magari è stato Uncharted 2. Eh, infatti Antonio, cioè, le basi sono quelle, però nel secondo capitolo bisogna battere molto di più sul mordente, sul ritmo. Qui, cioè, tu dici, false aspettative, però se mi metti in mano un fucile e la telecamera me la poni alle spalle e nei filmati mi fai vedere soprattutto momenti in cui si spara, io e i giocatori si aspettano uno sparatutto in terza persona. Se le fasi sparatutto sono deficitarie rispetto a quelle narrative, per me c'è un problema, Antonio, eh. E nulla, allora direi di lasciare il commento ai nostri utenti, quindi se avete giocato The Order o comunque l'avete visto in maniera pesante lasciate un commento sul nostro canale YouTube, fateci sapere cosa pensate nel gioco, se siete d'accordo con il nostro voto, se siete d'accordo con i due, con i nove e mezzo che pur ci sono stati. Comunque sicuramente The Order... I due è veramente una roba fuori di testa. I The Order 1886 è un titolo destinato a far discutere e nell'attesa anche di capire poi come si evolverà la saga. I The Order 1886 è un titolo destinato a far discutere e nell'attesa anche di capire poi come si è un titolo destinato a far discutere. Grazie. Grazie.